Ciao a tutti e benvenuti su Techstop, oggi parleremo di questo Ormai è da circa un anno che mi è stata attivata presso la mia abitazione la fibra a 1 gigabit L'unico problema, che il problema tanto non è, però a me mi infastidisce in una maniera impressionante E' che la fibra mi è stata montata con il nod Questo aggeggino qua, guardate quanti cavi devo sistemare vicino al modem per potermi collegare la fibra Cosa fa questo terminalino? Sostanzialmente questo terminalino riceve la fibra in ingresso Si occupa di trasformare il segnale ottico in segnale LAN che più dopo verrà risputato all'interno del router nella porta WAN E più ovviamente bisogna essere alimentato, quindi avremo il cavo in fibra che esce dalla borchia di Open Fiber E questo non possiamo farne a meno, e va bene Un cavo LAN che esce dall'ONT e va al router E un cavo di alimentazione che deve avere una presa tutta per sé, oltre la presa del router Quindi capite che è un po' una rottura di scatole Il mio intento è quello di sostituire l'ONT, quell'aggeggio con tutti quei fili che vi ho fatto vedere Che è un marasmo incredibile nel poco spazio che ho Con questo aggeggino qua, chiamato SFP Questo aggeggino sostanzialmente si occupa di fare la stessa cosa che fa l'ONT In modo più piccolo, direi molto più piccolo Sostanzialmente è un'estensione del router che si collega direttamente sul router e viene gestito dal router Quindi dovremo collegare il nostro cavo di fibra ottica all'interno di questo SFP Questo SFP all'interno del router e configurarlo La parte complicata di questa operazione, diciamo che è proprio quella della configurazione Quindi voglio farvi vedere come si fa il passaggio da ONT a SFP Ma anche il contrario volendo Come funziona? Al lato del modem, se non avate capito io ho Vodafone E questa è la Vodafone Power Station A lato della Vodafone Power Station abbiamo l'ingresso per SFP Non so se si legge Vedete qua c'è scritto SFP Questo modulino andrà inserito qua dentro Così E poi dopo a questo modulino Andrà messo il patch di fibra ottica E quindi avremo questa situazione qua Il cavo di fibra ottica che arriva dalla borchia Open Fiber E basta Quindi non avremo più questo marasma di cavi che vi ho fatto vedere prima Ma semplicemente il cavo di fibra ottica che va di termine sul router Ora andiamo a vedere come si configura Andiamo a rimontare tutto il router perché l'ho smontato per farvelo vedere Vi faccio vedere come era la situazione prima E vediamo come sarà la situazione dopo Una piccola nota Il passaggio da questo a questo Ci comporterà quasi certamente una perdita di velocità Il problema dei moduli SFP è che scaldano tantissimo Quindi quando arrivano a una temperatura troppo elevata Il router tende a gestire la temperatura Diminuendo le prestazioni della connessione a internet Mentre questo essendo molto più grande Avendo molta più capacità di dissipare il calore Non arriva mai a dover gestire questo problema E quindi diciamo che mediamente L'hont Se non lo smonto tutto Quindi mediamente diciamo che l'hont Va un po' più veloce Comunque faremo degli split test sia inizialmente Con l'hont Sia in fase finale Una volta che avrò montato il modulo SFP E vedremo quali sono le differenze Diciamo che io non ho grandi esigenze Non sono un videogiocatore Quindi mi potrei anche accontentare di una connessione Che non arriva a un gigabit pieno O giù di lì Tenete conto che comunque io Mi collego sempre tramite wifi Quindi già lì sono castrato E non è un grandissimo problema Non avere la gigabit completa L'importante è che comunque Abba una velocità di upload molto elevata Cosa che possa raggiungere solamente con la fibra Andiamo! La situazione è questa Qua abbiamo la borchia open fiber Qua arriva la fibra ottica Abbiamo qua attaccato un patch in fibra ottica Un cavetto di fibra ottica Che arriva fino all'hont Dall'hont esce un cavo LAN Che si va a collegare alla porta WAN del router Quindi mi ritrovo in questa situazione qua Due prese di corrente occupate Una per il router e una per l'hont Un cavo LAN che deve in qualche modo nascondere lì dietro E il cavo in fibra ottica Che quello non ne possiamo fare a meno Ora però prima di iniziare a fare il lavoro Magari vediamo un attimino uno speed test Giusto per capire la differenza di velocità Che ci sarà tra prima e dopo Facciamo partire lo speed test E vediamo i risultati che abbiamo in wifi Ovviamente è collegato alla rete di 5 GHz Ok quindi questi sono i risultati Che abbiamo sulla nostra rete in fibra ottica Collegati in wifi 5 GHz Ricordo che la rete è un gigabit Tenendo conto che siamo collegati con wifi Un po' perdiamo e ci sta Ora direi di procedere nella parte più tecnica di questo video E quindi andiamo a vedere quali sono i procedimenti da seguire Per poter fare il passaggio da hont a sfp Il problema sta nel fatto che ogni rete in fibra ottica Ha bisogno di un suo codice di autenticazione Che l'operatore normalmente non ci dà Ma noi abbiamo un modo per scoprire questo codice Andiamo a vedere come si fa Prima di tutto abbiamo bisogno di un computer Che abbia la possibilità di collegarsi via Ethernet Direttamente all'hont Ora questo computer qua non ha nessun tipo di collegamento a Ethernet Quindi ho bisogno di un adattatore USB Ethernet Se voi non avete adattatori USB Ethernet E non siete sicuri su quale comprare Ma diciamo che uno o qualsiasi va bene Vi lascio comunque il link nella descrizione di questo video Per poter acquistare un adattatore su Amazon Allora come prima cosa dovremmo andare a scollegare il cavo Ethernet Dal nostro router Dalla porta One del nostro router E collegarlo al nostro computer Ok quindi abbiamo collegato il cavo cache dall'Ethernet dell'hont Direttamente al nostro computer Ora dovremmo andare ad effettuare delle operazioni sul nostro computer Dovremmo andare a modificare la scheda di RET e LAN Per poter entrare nelle impostazioni del nostro hont Se noi giriamo il nostro dispositivo hont Vediamo che dietro c'è un IP Che sarebbe l'indirizzo IP dell'hont All'interno del quale troveremo le sue impostazioni Poi abbiamo l'username e la password che sono di default Sperando che nessuno ce l'abbia modificato durante l'installazione Andiamo a vedere se riusciamo a entrare Ok a questo punto ci troviamo nella situazione in cui abbiamo La connessione alla rete LAN con internet non disponibile Ovviamente il router l'ho lasciato acceso e mi dice internet non disponibile Siccome non mi devo collegare al wifi mi disconnetto Su Windows 10 faccio doppio clic su rete non identificata Modifica opzioni scheda E mi trovo all'interno di questa schermata Se non siete su Windows 10 ma magari su Windows 7 o precedenti Il percorso che dovete fare è questo Pannello di controllo, rete internet, connessioni di rete Identificate la scheda di rete Ethernet Quella alla quale è collegato l'hont direttamente col suo cavo LAN Entriamo nelle proprietà Andiamo a modificare il protocollo TCP IP versione 4 Quindi proprietà E sostanzialmente dovremo andare a modificargli L'assegnazione dell'indirizzo IP La subnet mask Gateway predefinito E dargli un DNS preferito Ma questo non è importante Noi metteremo lo stesso del gateway Ma possiamo mettere qualsiasi tipo di indirizzo IP In quel punto Allora l'indirizzo IP di questo computer Deve essere sicuramente differente dall'indirizzo IP del nostro hont Che vi ricordo trovate qua dietro Questo indirizzo IP sarà anche il gateway predefinito Quindi noi andiamo ad inserire un indirizzo IP dello stesso tipo Quindi 192.168.100.3 Subnet mask dovrebbe calcolarla automaticamente Se non è stata calcolata automaticamente Utilizzate quella che sto utilizzando io 255.255.255.0 E come gateway predefinito Inseriamo l'indirizzo dell'hont Quindi 192.168.100.1 Come vedete qua Qua in basso Vi ricordo Forse prima non l'ho specificato L'indirizzo IP deve essere dello stesso tipo Nel senso che deve essere uguale Nelle prime tre parti E deve essere modificata solo l'ultima parte Ora come server DNS predefinito Inseriamo 192.168.100.1 E così dovrebbe bastare Ora giusto per farvi capire Che questa operazione è un'operazione fondamentale Se noi ora proviamo ad accedere direttamente all'hont Inserendo l'indirizzo IP che troviamo dietro all'hont 192.168.100.1 Ci verrà restituito questo errore Perché non possiamo accedere senza questa modifica Ora Noi modifichiamo Diamo ok Noi ora aggiorniamo la pagina Eccoci qua Siamo nella pagina di login del nostro hont Account sarebbe lo username e password Dove troviamo questi dati? Qua dietro Quindi abbiamo username root E password Admin HV Quindi Account root Admin HV Login Ecco qua Siamo entrati all'interno della pagina di configurazione del nostro hont Mi raccomando fate sempre riferimento ai dati che sono stampati nell'etichetta nel retro del vostro hont Arrivati in questa schermata dobbiamo andare su hont authentication E qua vediamo la password di accesso alla rete fibra Una volta copiata la password possiamo tranquillamente chiudere tutto quanto Staccare la presa ethernet del nostro computer e ricollegarci tranquillamente al wifi di casa Allora io ora ho ricollegato l'hont alla presa one del mio router Quindi mi ricollego alla mia rete internet E ho la mia connessione Ora vado sulla pagina di configurazione del router Che è vodafone.station Mi loggo con username e password Vi ricordo che anche questi dati li trovate nell'etichetta post nel retro del router Ora non smonto tutto per farlo vedere ma sono lì Quindi username e password li avevo già salvati Accedo Mi collego in modalità utente esperto Vado nella scheda impostazioni ID registrazione SFP E qua incollo l'SFP che avevo copiato dalla pagina di autenticazione dell'hont Ora anche qua voi lo vedrete oscurato Clicco su applica Sembra che non sia successo niente In realtà è andato tutto a buon fine Non ci da nessun tipo di feedback Non so per quale motivo Forse è per scoraggiarci dal fare questo tipo di operazione Non lo so Arrivati a questo punto possiamo procedere con il montaggio dell'SFP Vi ricordo che fino ad ora non è ancora stato collegato l'SFP Quindi andiamo a spegnere la Vodafone Station Ok, ora la Vodafone Station è spenta Andiamo poi a demolire questo aggeggio infernale Stacchiamo tutto, non ci servirà mai più A meno che non vorremmo tornare indietro sui nostri passi Per qualche motivo Andiamo poi a staccare questa presa di corrente Che è il vero motivo che mi ha fatto optare per questa scelta E andiamo a collegare l'SFP all'interno del nostro router Ok, ha fatto clic e è collegato Prendiamo il nostro cavo in fibra ottica Che è nel mentre si è incastrato nei millefili E lo andiamo a collegare Adesso fare un collegamento un po' volante Poi dopo metterlo in ordine quando finirò il video Andiamo a collegare il cavo nell'SFP Ok, è collegato Arrivati a questo punto Accendiamo il router Bene Ora bisognerà aspettare circa 5 minuti Per far sì che venga attivato l'SFP a livello di rete E poi vedrete che potremo collegare Ci vediamo appena il modem si allinea Ok, sono passati più o meno 5 minuti Forse anche un po' di meno Il modem si è acceso e riavviato La spia internet è fissa E sono collegato alla rete 5 GHz Allora qui mi sta dicendo se sono scaduta Ok Quindi se è riacceso Vedete posso collegarmi al router Connessione a posto Anche da qua vediamo che la connessione fibra c'è Quindi siamo collegati con l'SFP Adesso proviamo a fare uno speed test Per vedere le differenze Ok, adesso vi faccio vedere il risultato A differenza di prima Adesso qua ho già messo un po' in ordine A differenza di prima Adesso abbiamo solamente Il cavo che esce dalla borchia Si collega all'SFP del modem E il cavo di alimentazione del router Finito E questa è una situazione Mi sembra molto molto più ordinata Soprattutto ho una presa di corrente libera Bene, se ancora non si fosse capito Sono parecchio soddisfatto Di essermi tolto dalle scatole Questo cosettino qua Comunque Vi lascio nella descrizione Un link a una guida Che ho beccato Sulla community di Vodafone Che mi ha aiutato un sacco Per fare questo passaggio Tenete conto che comunque C'è qualche piccola imprecisione O comunque qualche piccola cosa Che è cambiata Rispetto a quello Che vi ho fatto vedere io E comunque Riguardo solamente Vodafone Diciamo che la configurazione generale Dell'SFP È più o meno uguale Per tutti quanti Nel senso che bisogna sempre Comunque Inserire un modulo SFP Nei router Che lo permettono E poi dopo andare A mettere questo codice Di registrazione SFP Se non ce l'avete Lo troverete sicuramente Nelle impostazioni dell'hont Se l'hont Vi permette di trarre Nella pagina Di configurazione E lo mostri in chiaro Questo non lo so Io parlo solamente Per l'hont Che ho utilizzato Che ho appena lanciato Che stasera l'hont Ma credo che in linea generale Siano più o meno tutti uguali Gli hont Comunque credo Che venga utilizzato Proprio quel tipo di hont Più o meno per tutti Gli operatori Che si appoggiano OpenFiber Penso Altrimenti Per quanto riguarda Vodafone Il codice di registrazione SFP È il codice pratica Che vi inviano tramite SMS Quando voi fate la richiesta Di attivazione Della vostra linea Se non volete Andiamo ad entrare Nella pagina di configurazione Dell'hont Prendete quel codice Lo incollate Nell'ID di registrazione SFP Saltate il passaggio Che l'ho fatto vedere È buona È tutto quanto funziona Il codice è esattamente quello Se non avete quel codice Comunque l'assistenza clienti È in grado di darvela Io l'ho chiesto All'assistenza clienti Giusto per capire Se erano in grado Di darmi quel codice Me l'hanno fornito Non mi hanno fornito Il codice SFP Di registrazione SFP Anche se effettivamente Il codice era il codice pratica Quindi uno sì l'altro No anzi Volevano farmi pagare L'intervento del tecnico Ma tant'è Fatevi furbi È un'operazione Che potete fare Tranquillamente da soli Potete comprarvi Un SFP su ebay A circa 30-40 euro Dipende dal momento In cui l'ho cercato Io l'ho pagato 24 euro di fare Assicuratevi che l'SFP Sia compatibile Con il vostro router Quindi fate qualche ricerca Su internet Io comunque Vi linko la guida Per il passaggio Da HONT SFP Per quanto riguarda Vodafone Per cui il passaggio contrario Da SFP a HONT È più o meno La stessa cosa Fatta inversamente L'unica cosa È che non avete Questo codice Di autenticazione Che potete recuperare Come avete detto poc' Anzi Noi ci vediamo Giovedì Con un prossimo video